Questo è il letto Armonia. È un letto elettrico ad una piazza. È lungo 220 cm e largo 105 cm e la sua portata è di 180 kg. È un dispositivo medico registrato presso il Ministero della Salute e pertanto è detraibile ai fini fiscali. Oggi insieme andremo a vedere quali sono le sue caratteristiche principali. Innanzitutto la movimentazione elettrica della rete. Potete regolare il busto e le gambe in maniera simultanea o separata così da poter trovare la posizione più comoda della persona in ogni momento. Un'altra caratteristica importante è la regolazione in altezza del letto per agevolare l'assistenza della persona senza sforzo oppure più semplicemente per aiutare la persona ad alzarsi e sedersi dal letto in base alla sua statura. Tutti i movimenti del letto sono governati da un pratico telecomando con chiavetta di sicurezza. Le sponde di contenimento evitano la caduta della persona durante il sonno oppure offrono un pratico sostegno qualora la persona desiderasse cambiare posizione. Si alzano e si abbassano tramite un pratico bottone presente sulla testata e sulla pediera del letto. Anche l'asta alza persona regolabile in altezza aiuta ad alzarsi o a sdraiarsi oppure a cambiare posizione. È posizionabile a destra o a sinistra del letto oppure rimovibile qualora non ce ne fosse il bisogno. Le ruote con il freno permettono di posizionare e bloccare il letto dove si desidera. Il letto Armonia è acquistabile con IVA agevolata al 4% per gli aventi diritto. I nostri specialisti di azione salute vi guideranno durante il processo di acquisto. Vi basterà contattare il servizio cliente. Grazie a tutti.